Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Arachito e oggi siamo tornati nella carriera allenatore con l'Empoli e di questo oggi affrontiamo niente po' di meno che il Milan quindi occhio e attenzione perchè questa è una squadra che punta alto andiamo a affrontare il Milan grazie andiamo a affrontare il Milan sempre con la stessa formazione quindi con Dioce al posto di Romulo e niente andiamo in partita tra l'altro qui a Empoli ci sono un paio d'ex Calabria e José Mauri per esempio José Mauri che è in prestito Calabria no e anche Kingsley Botengue che viene dal Milan e subito recupera il pallone Yusuf, Yusuf Yusuf Bolsa e palla alta bella palla di Dioce per Pucciarelli che palla di Dioce mamma mia che giocatore Fosman Dioce stop di petto e tiro di destro Gabriel fermo in vantaggio l'Empoli mamma mia finisce il primo tempo in vantaggio da noi con i due di Pucciarelli dobbiamo mantenere assolutamente il vantaggio Yusuf Bolsa 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 mamma mia per poco facciamo il 2-0 con Yusuf Bolsa oh 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 fermate Suso mamma mia scorucchi ma no ma che è partito Suso se ne è fatti 4-5 eccolo mamma mia ha provato Bolsa Bolsa niente da fare Saponara per Di Gaudio Di Gaudio Di Gaudio Antonio 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 Di Gaudio Antonio Di Gaudio in mezzo c'è solo lui Bolsa no non così non così Bolsa anche pallone che scodellata per Saponara 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 invenzione di Bolsa e gol di Saponara Bolsa gol dell'extra Bolsa in capo aperto mamma mia mi ha sbilanciato Bolsa 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 Bol e va Sapon Bol non è possibile finisce così 2-0 con il 3-0 finale quasi vinciamo anche questa perché dà giù benissimo mamma mia ma che è successo alla fine prossima partita ho visto che è contro il Sassuolo ora andiamo a vedere la classifica dovremmo stare sempre primi e secondi secondi perché primo c'è la Juventus a 31 noi siamo sotto a a 30 punti però la Juve ha anche giocato una partita in più va bene ragazzi io direi che per questo video è tutto passate nella pagina Twitter in descrizione al prossimo appuntamento da Rekito ciao ciao ciao